Ricordate l'operazione Bani Bani su riduzioni schiavitù e tratta di persone? Ci sono novità perché la polizia ha eseguito un ordine di fine pena trasferendo al carcere di Gazzi il rumeno di 32 anni Florinatos Constantin che dovrà scontare 8 anni, 4 mesi e 8 giorni di prigione. L'uomo è ritenuto responsabile di aver fatto parte di un'associazione a delinquere finalizzata alla riduzione schiavitù e alla tratta di persone e anche responsabile del reato di detenzione illegale di armi e munizioni. L'ordine di carcerazione a carico del rumeno è stato emesso lo scorso 27 maggio dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria. Constantin rientra nell'operazione di polizia Bani Bani con cui nel febbraio 2011 la squadra mobile di Messina con l'ausilio delle squadre mobili di altre città italiane dei commissariati di Milazzo e Taormina diede esecuzione un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 40 indagati ritenuti responsabili a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione tratta di esseri umani, riduzioni schiavitù, sequestro di persone e altro. L'inchiesta coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Messina fu avviata nell'autunno del 2007 quale naturale sviluppo di un ordinario controllo di polizia effettuato a carico di alcune prostitute rumene.